Sono Andrea Cattaneo, lavoro al Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia della nostra Università qui a Como e mi occupo di valutare le interazioni tra esposizioni ad inquinanti ambientali e salute umana. Nella fattispecie collaboro in progetti di ricerca in cui si studia il particolato atmosferico, le nanoparticelle ingegnerizzate e quindi questi studi hanno lo scopo finale di valutare il rischio per la salute umana negli ambienti di vita come le scuole, i nostri uffici, le nostre case e negli ambienti di lavoro anche industriali per poter gestire al meglio questo rischio.